E' stata una domenica di festa, quella che ha ospitato il 49esimo trofeo Gianfranco Bianchina alla Becker House di Ponzano Veneto. Il quartier generale della famiglia Bonazza infatti ha dato ospitalità a questa grandissima classica che è tornata puntuale nel mese di settembre portando al via i migliori talenti del panorama nazionale ed internazionale che sono pronti ormai per affrontare il prossimo campionato del mondo Under-23. Ben 141 gli uomini portati ai nastri di partenza grazie al lavoro dallo staff del Veloce Club Gianfranco Bianchina, capitanato dal presidentissimo Bonaventura Pizzolone che ha dato davvero lustro a questa 49esima edizione. 50 anni in meno uno ma festeggiati e portati davvero alla grande dalla classica trevigiana. A dare il via insieme al sindaco Monia Bianchina, anche l'assessore allo sport Mario Sanson e insieme a Marco Bergamo della Conad e ai rappresentanti della famiglia Bonazza per la Becker House. In programma ben 162 chilometri dopo nove tornate iniziali completamente pianeggianti infatti si sale verso il Montello. Una prima ascesa lungo la presa 10 e poi altri quattro passaggi sul GPM di Santa Maria della Vittoria salendo dal versante della presa 15. Una prima parte di gara scivolata via molto velocemente con il gruppo che sfilava compatto sulle strade di Ponzano Veneto e poi quando si inizia a salire ecco emergere i più attesi della vigilia. Tirare il gruppo infatti è il francese Claman Champussin della Chambéry Ciclisme e sulla sua ruota avete visto subito lo sloveno Tadej Pogacar vincitore quest'anno del Tour dell'Avenir e del Giro del Friuli ed uno dei maggiori indiziati in vista del prossimo campionato del mondo. Insieme a loro avete visto anche Andrea Baggioli del Team Colpac, Samuele Zoccarato della General Store Bottoli e Flavio Tasca della Work Service Videa Coppigazzara. Saranno questi i cinque uomini che riusciranno a fare la differenza sin dal primo Gran Premio della montagna di giornata involandosi verso il traguardo. Il gruppo infatti accusa un ritardo subito molto importante per raggiungere un vantaggio massimo di 3 minuti e 50 secondi. A quel punto è la Zal, Ferromobil, Desiree Fior ad incaricarsi dell'inseguimento di questi cinque battistrada che però sono davvero scatenati. A fare il passo in salita è sempre lo sloveno Tadej Pogacar mentre al suo inseguimento le maglie della corazzata del patron Gaspare, Lucchetta e De Gidio Fior che tengono in lunga fila indiana il gruppo ma che non riescono a rosicchiare nulla ai cinque battistrada. Cinque attaccanti che vanno d'accordo fino all'ultima ascesa al GPM di Santa Maria della Vittoria ed è lì che è ad accelerare nuovamente il francese Clement Champoussen. La maglia del Saint-Beris ciclismo sulla sua ruota resiste André Bagioli, resiste anche Tadej Pogacar mentre perde terreno Flavio Tasca e soprattutto Samuele Zoccarato. Davvero una rasoiata importante questa del transalpino che rischia di frantumare l'azione dei cinque proprio quando è ormai in vista l'ultimo Gran Premio della montagna di giornata. Da lì poi si scenderà per raggiungere Ponzano-Veneto nel volgere di una decina di chilometri. Ebbene il gruppo invece è tirato sempre dalle maglie della Zalfero Mobile Desiree Fior con Andrea Pietro Bon in prima posizione sulla sua ruota Nicola Breda, poi Aldo Cajati. Insomma questa formazione trevigiana che non vuole lasciare andare la fuga ma è difficile contenere gli attaccanti. Vedete che sono tornati in quattro proprio quando si transita sull'ultimo Gran Premio della montagna di giornata a mancare l'appello nel drappello di testa e solo Samuele Zoccarato. Il portacolori della General Store Bottoli che farà davvero l'impossibile per tornare in testa però dovrà arrendersi al passo di questi quattro fuori classe. Vedete Samuele Zoccarato impegnato nell'inseguimento ai quattro battistrada ma per lui ormai è troppo tardi. La lotta per il successo è cosa ristretta a questi quattro che vanno di comune accordo fino agli ultimissimi chilometri. Vedete sempre Sean Poussin in testa, Baggioli sulla sua ruota quindi può gacciare Flavio Tasca, si transita il cartello dei meno 3 km del traguardo con la situazione che vede questi quattro attaccanti avvantaggiati di 20 secondi sul Zoccarato e ben di 3 minuti sul resto del gruppo. Dunque RT filo d'arrivo è volata, ranghi ristretti a lanciarla lunghissima è lo sloveno Tadej Pogacar, su di lui rinviene però Andrea Baggioli ed è un arrivo davvero al photo finish. Terza piazza per Sean Poussin, quarto Flavio Tasca, quinto Samuele Zoccarato, poi si sprinterà per il sesto posto a vincere la volata del gruppo infatti Cristian Rocchetta della General Store Bottoli ma per aggiudicare la 49esima edizione del trofeo Gianfranco Bianchini bisognerà ricorrere al photo finish. Vedete il rallentit con il colpo di Reni vincente per pochissimi centimetri a favore di Tadej Pogacar. Andiamo a sentire però le interviste realizzate dopo il traguardo. I hope for Innsbruck that I will be still in top shape but as I as you can see today I was pretty strong so I hope in Friday it will also like this. Dal Toscana adesso siamo pronti per Innsbruck? Sì siamo pronti, Toscana erano ritmi diversi si va veramente forte con i professionisti, oggi ce l'ho giocata io e Pogacar ha vinto lui quindi complimenti a lui e adesso ci aspetta Innsbruck. Presidente ha vinto un corridore che sta segnando il passo nel mondo degli under 23, ha vinto il giro del Friuli, ha vinto l'Avenir, adesso sarà una delle punte della Slovenia del mondiale di venerdì. Io sono felice che abbia vinto, che abbia vinto il migliore diciamo e mi auguro che tutti quanti i suoi sacrifici siano ricopensati più avanti sulle sulle prossime corse e ci si augura insomma che il prossimo anno ci sia delle cose, delle novità insomma ecco. Si va verso il cinquantesimo anniversario, 50 anni ricordando sempre Gianfranco Bianchin, Remigio Zanatta e tanti altri, Elio Zanatta che hanno voluto bene a questo trofeo bianchino. Certo, questo deve essere fondamentale, il cinquantesimo è mezzo secolo di vita, questo grazie anche ai presidenti che mi hanno preceduto. Stefano Zanatta, un vincitore che insomma al mondiale farà davvero paura agli azzurri. Siamo contenti soprattutto per il podio, credo che tutti i quattro ragazzi che sono andati davanti hanno fatto una grandissima gara e il vincitore era uno dei favoriti, sappiamo che non lo scopriamo noi, è uno che ha vinto il Tour dell'Avenire, ha vinto il giro di Friuli, è tra i migliori under che ci sono in circolazione a livello mondiale, per cui vedere sul podio il trofeo bianchino un vincitore così che vorremmo fare tanta strada in futuro è un po' un seguito di tutti i vincitori del trofeo bianchino, questo fa sì che la nostra gara sia considerata e che venga tenuta in considerazione anche in futuro da parte dei team e soprattutto delle istituzioni per la messa in piedi di questo avvenimento.